Sono Mario Iodice e ho fatto dello studio e della cultura la mia passione, i miei compagni di viaggio e la mia professione. Infatti da circa 20 anni insegno nei licei e nelle università. Per quanto riguarda la cultura, il turismo e il commercio, l'Ista Civitas ha in cantiere progetti interessanti e credibili, che potranno valorizzare finalmente, nel migliore dei modi, il nostro amato territorio. Promuoveremo e incoraggeremo eventi e iniziative di tipo artistico e storico letterale. Con l'aiuto dei nostri concittadini e delle numerose e vivaci associazioni locali, faremo di Laveno, Mombello e Cerro un territorio stimolante e turisticamente attrattivo, orgogliosi delle nostre tradizioni ma anche protesi verso le sfide del futuro. Noi siamo pronti, cambiamo insieme! Grazie a tutti!